Sabato 19 ottobre, sedicesima edizione della Coppa d'Oro qui alla bocciofila Tolentino. Qui con noi il presidente Claudio Pascucci con cui parliamo appunto di questa manifestazione. Manifestazione lunga, intensa, terminata in serata con la vittoria della formazione di Matelica. Ma al secondo posto la vostra formazione, quella di Tolentino. Sì, la nostra formazione si è comportata molto bene perché è arrivata fino alla fine. Poteva addirittura vincere perché è stato un incontro di finale terminato 12 a 11, quindi 11 pari si chiamava all'ultima tornata. E quindi siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose. Sono anche molto felice per come le adesioni a tutta la gara sono state massicce. In effetti si sono iscritte ben 131 terne provenienti da tutte le marche e da provincia di Perugia e anche terni. Comunque sia è stata una gara riuscita. Non è la prima volta che facciamo la Coppa d'Oro, la tredicesima, ripeto, edizione. Però anche quest'anno è andata benissimo. Nonostante tutto quello che capita in giro, anche le persone che si muovono sempre meno per questioni economiche, per questioni familiari e quant'altro. Vorrevo ringraziare tutti i partecipanti e volevo ringraziare le ditte che ci permettono sempre di fare queste belle manifestazioni. Grazie a tutti i miei collaboratori con i quali portiamo avanti tutto questo e senza i quali io solo presidente farei ben poco. Primi classificati dalla bocciofila di Matelica, la formazione è composta da Luciano Buarelli, Danilo Buldorini e Stefano Mercuri. Con te Stefano parliamo proprio di questa gara. Come è andata quest'oggi? Beh, penso che sia andata pure troppo bene, nel senso che le prime due partite abbiamo giocato bene, bene, sì. La terza partita no, la terza partita è stata secondo me la svolta della giornata, perché perdevamo, mi sembra, 11-3 e non stavamo giocando bene. Anche e soprattutto per merito degli avversari che hanno giocato veramente forte e poi dopo c'è stata la svolta, per carità, dopo c'è stato anche un tiro fortunato, niente da dire. Però dai, dopo lui ha fatto una gran bocciata sul pallino e abbiamo fatto partita. Secondi classificati, il team della bocciofila di Tolentino, composto da Giorgio Cesaroni, Graziano Gattari e Giancarlo Sarnari. Con voi parliamo appunto di questa gara. Come è andata quest'oggi? Vi aspettavate di arrivare in questa posizione? Che ce l'aspettavamo? No. Che ci speravamo? Sì. Perché bene o male quando si va a giocare si cerca sempre di conquistare le varie posizioni più avanti possibile. Per oggi speravo perché abbiamo giocato sempre bene. Adesso siamo un pochetto delusi perché sulla finale siamo scesi con il gioco, abbiamo fatto qualche errore di troppo e siamo un pochetto amareggiati e rammaricati. Però il secondo posto lo onoriamo e siamo ben soddisfatti. Grazie.